Oggi si va di nuovo di T-Rock. Già perché il SUV compatto di Volkswagen lo avevamo già provato, con il piccolo 1000 TSI tre cilindri di 115 cavalli, poi col 1600 TDI con la stessa identica potenza, ma ci mancava ancora da provare quello che per ora rimane il top di gamma, il 2000 TDI da 150 cavalli, che è l'unico fra l'altro che consente di avere anche la comodità del cambio automatico e la sicurezza delle quattro ruote motrici. Del suo look, della sua linea originale ne abbiamo già parlato e comunque piace molto. Magari non in questo colore, io ne sceglierei uno un po' più vivace, più giovane, ma se questo vi piace è l'Indium Grey metallizzato con il tetto nero, nel caso 680 euro in un più. Anche dentro è vero ci è piaciuto subito, molto giovane, tecnologico, ma non proprio impeccabile, soprattutto per le plastiche utilizzate. È tutto assemblato con cura, però quelle della plancia e dei pannelli delle porte sono un po' rigide. In molti si sono lamentati di questo, abituati poi con la Golf, ma speriamo che in occasione del restyling di metà vita migliorino un po' questo aspetto. La trazione integrale con gli organi della trasmissione 4Motion, come la chiamano loro, riduce la capacità del bagagliaio di una cinquantina di litri, ma non per questo diventa piccolo. da 392 a 1.237 litri rispetto ai 445 e 1.290 di quello delle versioni a trazione anteriore. Quando la guidate in città la apprezzerete, se la cava piuttosto bene e poi soprattutto in questa versione non vi stanca proprio, guidarla non è un problema anche quando c'è tanto traffico da sopportare. Anche sul pavè di Milano, l'ho provato, le sospensioni assorbono piuttosto bene. Nei parcheggi e nelle manovre, meno male che ci sono i sensori, di serie anche davanti, e tra gli optional c'è anche la retrocamera. Lasciata alle spalle la città, il T-Roc si guida volentieri anche tra le curve. Il brio non gli manca, nonostante il peso maggiore di questa versione rispetto al piccolo 1000 che avevamo provato, il turbodiesel si rivela rapido in ogni situazione. Lo sterzo direi che già di base restituisce un buon feedback. Un consiglio, se potete, fra gli optional, scegliete le sospensioni a controllo elettronico. Per cominciare in città renderanno l'auto più confortevole e visto che le buche non mancano mai non è una brutta cosa e sulle strade extraurbane avrete un'auto più sicura, più precisa e se decidete anche di guidarla in maniera più sportiva, beh, vi soddisferà anche tra le curve, anche perché meno l'olio significa avere un feeling di guida diverso, un'auto più precisa e non guasta mai. In Volkswagen lo chiamano Adaptive Chassis Control, il DCC, che adatta l'assetto al profilo di guida scelto. È offerto abbinato allo sterzo progressivo che tra le curve lo rende più incisivo e piacevole da guidare. Cambia davvero tanto e se avete cerchi da 18 pollici o addirittura da 19, io ci rimetterei da 19, l'assetto diventa un po' meno rigido. Costa 1350 euro ma sono ben spesi. Anche nei lunghi viaggi in autostrada il T-Roc si rivela un buon compagno di viaggio. A 130 all'ora, in settima, ronfa ad appena 1900 giri. Se serve riprende rapidamente con il cambio DSG pronto a scalare nella marcia giusta. Il comfort è garantito anche dall'ottimo lavoro fatto per insonorizzare il 2000 TDI, che a dire il vero non è invadente e si fa sentire solo se spingete tanto. Certo si sente che siete su un'auto a gasolio, ma direi che comunque hanno fatto un buon lavoro. Si sente solo qualche frusciero dinamico, le velocità un po' più alte, il generato degli specchietti e un pochettino il rumore di rotolamento delle gomme, ma niente di così importante. Il cambio DSG è una garanzia perché offre una notevole dolcezza di funzionamento, ma anche una notevole rapidità. Se selezionate la modalità di guida sport poi, cambia ad un regime superiore. E poi sfrutta al meglio la coppia del motore e vi aiuta a consumare di meno. Come? Nelle modalità di guida eco e normal usa almeno sempre una marcia in più. Per consumare meno e inquinare meno c'è anche la funzionalità sailing, che disaccoppia la trasmissione dal motore nei momenti in cui non è necessaria la spinta o il freno motore, ottimizzando l'uso dell'energia cinetica accumulata. Ormai conosciamo molto bene le qualità di questa piattaforma MQB che condivide con l'Audi Q2 e con altre cugine del gruppo. Le conferisce un buon comportamento dinamico, insomma questo SUV compatto è molto equilibrato. Se andate a passeggio è assolutamente rassicurante, ma se decidete di darci un po' dentro, beh considerato sempre il tipo di auto che è, avrete un T-Rock che vi asseconda, piuttosto agile e poi motore cambio lavorano davvero bene assieme. L'efficacia della trazione integrale ho potuto verificarla solo in un paio di occasioni, quando sull'asfalto c'era veramente tanta pioggia. Comunque in condizioni normali il 90% della coppia arriva alle ruote anteriori, ma se queste slittano il sistema 4Motion può trasferirne fino al 100% a quelle posteriori, mediante una frizione a comando elettroidraulico. Sul fango, sugli sterrati e sulla neve si possono sfruttare le specifiche modalità di guida di questa versione. Infatti il comando Active Control nel tunnel centrale offre anche modalità di guida specifiche. Ruotando la rotella coassiale si può infatti settare l'auto per la neve, snow, o per la terra e la sabbia, off-road, oppure c'è anche la modalità off-road individual per regolare in modo separato la risposta di sterzo, meccanica e limitatore di velocità in discesa. Beh, mi sembra evidente che non nasce certo per farci il fuoristrada o affrontare percorsi accidentati, nessuno lo compra certo per quel motivo, ma se per esempio siete spesso in campagna e su strade bianche, magari per lavoro, oppure vivete in montagna, beh, fa il suo dovere senza problemi. Quando c'è poca aderenza i controlli elettronici aiutano molto e in discesa si può sfruttare il sistema che limita automaticamente la velocità, a quel punto dovete solo mantenere l'auto in traiettoria. Dal tasto centrale invece si scelgono le più conosciute modalità di guida per l'asfalto, eco, normal, sport e individual. T-Roc è molto sicuro, su tutte le versioni è di serie l'adaptive cruise control, il controllo della velocità adattivo, vale a dire che mantiene la distanza di sicurezza dall'auto che vi precede. Molto utile visto che oggi siamo tutti un po' troppo distratti al volante e un alleato prezioso nei lunghi viaggi contro la stanchezza. C'è anche tanta altra tecnologia di serie fin dall'allestimento base style per la sicurezza, sistema di assistenza alla frenata con riconoscimento dei pedoni, l'assistente di mantenimento corsia, il rilevatore di stanchezza e i fari automatici. Questo T-Roc volendo viaggia può arrivare fino a 200 all'ora ma soprattutto vanta uno 0 a 100 da record tra i SUV compatti con questa potenza, poco più di 8 secondi. E quanto consuma? Beh intanto un dettaglio, il serbatoio di questo 2000 TDI ha una capienza superiore rispetto a quello del 1000 che avevamo provato tra i cilindri, infatti siamo a 55 litri contro 50. Comunque questo propulsore ha una buona efficienza, consuma poco, difficile andare oltre il valore dei 7 litri per 100 chilometri, dovete proprio darci dentro. In media se ne sfruttate bene la coppia e guidate diciamo a velocità da codice, siamo anche sui 6 litri per 100 chilometri, dichiarano un valore di 4,9 ma forse è un po' troppo ottimistico. Questo 2000 TDI con 150 cavalli e 340 newton per metro di coppia, ora Euro 6 di Temp, vanta un buon equilibrio fra prestazioni e consumi. È vero il 1600 TDI da 115 cavalli consuma meno ma ovviamente non può essere così brillante e soprattutto in ripresa fa quello che può, non gli si possono chiedere i miracoli. Nella scelta tra le due valutate bene quelle che sono le vostre abitudini e necessità, se viaggiate spesso da soli oppure con la famiglia o per lavoro se viaggiate più spesso a pieno carico. Ora arriverà anche il 2000 TDI con 190 cavalli abbinato alla trazione integrale e al cambio DSG a 7 rapporti. Sarà di sicuro piacevole da guidare ma sarà solo per una nicchia. A mio giudizio questa è la versione più equilibrata fra i motori a gasolio offerti dalla gamma del T-Roc. Quanto costa? Si parte nella versione entry level style da 24.000 euro e di serie offre non poco. Cerca in lega da 17 pollici, front assist con riconoscimento pedoni, lane assist, il sistema di mantenimento corsia, la radio con schermo touch da 8 pollici, l'app connect e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Questa versione, la più ricca, la advanced, parte da 28.400 euro. Di serie cerca in lega da 18 pollici fare i full led, il rivestimento dei sedili con inserti in similpelle, l'active info display, il clima bizona, la radio digitale DAB e tanto altro. Per avere questo 2000 TDI 4Motion DSG, se lo volete style ci vogliono 33.550 euro, se invece lo volete più ricco, advanced, ce ne vogliono 35.500. Il cugino alto della Golf se la cava bene, piacevole da guidare, un abitacolo confortevole, almeno per quattro persone, poi una bella abbinata ai 2000 TDI da 150 cavalli con il cambio DSG a 7 rapporti doppia frizione, lo rendono piuttosto brillante. L'assetto e lo sterzo sono ottimi, quindi preciso e agile quanto basta e poi c'è anche la trazione integrale che vi fa stare più tranquilli sui fondi viscidi o con meno aderenza e questo lo rende anche più versatile. Buone le prestazioni e molto positivi i consumi, è caro, è vero, ma ha una ricca dotazione di serie e soprattutto molti dispositivi per la sicurezza. Allora, se la vostra prossima auto sarà un SUV compatto, che si fa? T-Roc? Oppure il cugino più blasonato Audi Q2? Oppure la Hyundai Kona? Se la gioca tra le alternative anche con la Jeep Renegade, quale scegliereste? Oppure avete un'altra idea? Scrivetecelo, fatecelo sapere, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciate i vostri commenti e condividete